Allora bentornati alle battaglie wifi di Poco Combat Revolution, questa volta narro dopo il video perchè il microfono che uso per il computer funziona meglio rispetto a quello che uso per registrare live diciamo mentre gioco Allora, io guardando già questo team ho avuto una paura di Grodon un Uber che detesta il 100% L'ho detto, ma sì, perchè non mandiamo Empolion che ha idrocannone? Sì, perchè io mi sono immaginato che lui mandasse per primo Grodon e Latios Scusate Allora ho deciso di mettere Empolion che ha idrocannone e Dragonet che ha dragartigli Infatti dopo tre anni se mi muovo un po' Vabbè, deciso di mettere i Dragonet e Charizard e Sheezor, me lo ricordo Me lo ricordo Oggi non so cosa ho, ma continuo a parlare male Ok, Arena Vulcano E da guardare cosa succede adesso Guardate Grodon e Latios Io ho detto qua Sono un genio Azzeccati tutti e due Quindi senza problemi faccio idrocannone Su Grodon E dragartigli Con Dragonite Ok Allora qua mi sono rimasto fregato perchè Grodon ha Un figo Rapido artigli E attacca per primo Ma bene o male Con Empolio non riesco a resistere Che fortuna E cavolo qua Però là c'è sto Dragopulsar Che me lo manda K.O. Dragonite Quindi già All'inizio sono un po' in difficoltà Ma Meno mai riesco a recuperare Con l'idrocannone di Empolion Quindi L'Uber che detesta Al cento per cento Va K.O. Cioè Grodon E qua mando Charizard Perché ha Dragopulsar E Sì perché ha Dragopulsar Ed è super efficace Su Latios Però Mi manda Bronzong E quindi cambio tattica Anche se Mi sa che non avrei dovuto Cambiarla Qui faccio incendio Su un Bronzong Ah no Ho fatto meno a cambiarla Perché Mi ero dimenticato Che usava protezione Lui Quindi faccio incendio E Non manda K.O. Quindi Bronzong Va all'altro mondo E qua siamo in parità Sì in parità Sì in parità Ok Allora Ora mette Shizor Sì Shizor Sheroz Che nome Non è ancora possibile Prevedere come andrà a finire Lo saprà lui Perché l'avrà chiamato così Vabbè Intanto con Impolion Faccio Bora Per togliere Danno a tutte e due Anche per mandare K.O. E Latios Poi qua Non ci ho mai creduto Pugno scarico Cioè Con Con Ips Che avrà in pari Una pugno scarica Non lo manda K.O. Detto Cos'è questa storia qua? Beh Se avrete visto Purtroppo Charizard Va a K.O. Ah sì Manco Latios E Non so che stifiche Sto avendo in questa battaglia Non so neanche Non so neanche io Allora Mando Shizor Perché è l'ultimo Pokémon E vabbè Poi non lo lascio morire Mandare K.O. Perché Entrambi i suoi Pokémon Sono più veloci Del mio Imponio Poi con Shizor Faccio Forbici Hits Latios Non so perché Ero così In dubbio Ma alla fine Ci sono arrivato Quindi faccio Una bella Forbici Hits Latios Ok Ok Infatti Shizor Mi manda K.O. In Polion E Ora Latios Fa Drago Pulsar Non ho capito Perché ha fatto Drago Pulsar Che non è Molto Efficace Colpito Che male Infatti non è che gli fa granché Nessun problema per me Per quel danno E Colpo secco Manga Manga La nuova parata Che ho inventato Manga Manda K.O. Latios Manga Vabbè Adesso Cerco di Concentrarmi Lora Se mi ricordo Me Sì Ovviamente Faccio Troppo Forte Perché Forichades Non è Molto Efficace Ma il testato Non è Molto Efficace Eppure Danza Spada Che non è Molto Efficace Danza Spada Aumenta L'attacco Quindi Meno Ma l'attacco Per primo E lo mando K.O. In un Colpo Perché Se non Mi avrebbe Mandato K.O. Lui In un Colpo Yes Vabbè E Sconfitto Di poco Beh Questo Notto Mi era Piaciuta Però Grodon E Lachias Gli consiglierei Di cambiarlo Perché Molti Rifiutano Di lottare Contro Alcuni Che usano Uber Vabbè Voi Iscrivetevi Alla prossima Grazie Per la Visualizzazione